di partecipazione, senza che ci ricordiamo, Arena Bianca, un applauso, grazie, non scendete perché c'è poi ancora da ricevere qualche altro premio, Pantanelle, Pantanelle, Casa Albuono, Tempa degli Angeli, Condrada Tempe, che non vedo più, eccolo qua, prego, poi c'è Trinità di Sala e Via Nazionale, auguri e grazie. Queste sono per gli altri componenti, visto che ci sono, se dovessero bastare, ne diamo una ciascuno. Poi procediamo con il premio speciale, che la giuria ha pensato di attribuire ad alcune contrade, il premio speciale lo consegna il signor sindaco. Allora, premio speciale alla Condrada Trinità e alla Condrada Casalbuono per aver partecipato, venite da fuori e questo è un premio speciale. Ecco, grazie. Casalbuono oltre riceve il premio speciale perché viene da fuori, riceve un secondo premio speciale perché ha fatto il miglior pan di Spagna. Due pergamene, dobbiamo dare? Due? Due pergamene. Poi c'è la Condrada Tempa con Cappuccini che ha ricevuto il premio speciale miglior abbinamento crema frutta. Complimenti, premio il signor sindaco. E ancora, la Condrada Arena Bianca per la Fantasia. Adesso passiamo ai trofei. Ripeto, non è una gara nel senso che non c'è un primo posto. Tutti vingono qualcosa. E perdonateci, siamo umili, se il nostro giudizio è stato anche un po' così umano. Nel senso che non siamo perfetti, no? Ci perdonerete se non siamo stati così bravi. Ma tutti veramente bravissimi. Allora, premia il miglior addobbo che va attribuito alla Condrada Tempa degli Angeli, il direttore della Banca BCC di Buonabitacolo. Complimenti, migliore addobbo e riferimento al tavolo. Grazie. Il premio alla creatività, premia sempre il direttore della Banca BCC di Buonabitacolo, è stato attribuito alla Condrada Trinità. Grazie, grazie la creatività. A noi è piaciuto molto l'intreccio delle mani, vero giuria? L'intreccio delle mani. Poi invece il premio gusto, miglior gusto, premia il signor sindaco, il dottor Dino Fiore, è stato attribuito alla località Pantanelle. Invece il premio migliore decorazione, premia il signor sindaco, è stato attribuito alla Condrada Via Nazionale. Miglior decorazione. Grazie, grazie e complimenti.